Benvenuti o bentornati sul mio canale, il mio nome è Chiara e sono appassionatissima di cronaca nera e proprio su questo canale voglio trattare casi nazionali ed internazionali e per il caso di oggi ci troviamo in Australia. Il caso di oggi fa parte della mia rubrica su crimini avvenuti in luoghi di vacanza e che tratta anche di persone che purtroppo sono rimaste vittime di crimini violenti mentre si trovavano in un luogo di villeggiatura e questo è il quarto episodio. Mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale detto questo iniziamo subito con la storia di oggi e voglio iniziare facendovi una domanda voi avete mai guardato il film Wolf Creek? Bene sappiate che ha tratto ispirazione tra virgolette proprio da questo caso e non solo da questo diciamo nello specifico da diversi crimini avvenuti in Australia ci troviamo nello specifico nel North Territory australiano che si trova nella parte nord e centrale del paese è una zona con una bassa densità abitativa pensate ci sono solamente 250.000 persone per una superficie di 1.4 milioni di chilometri quadrati per farvi rendere conto questo immenso territorio vanta la stessa popolazione dell'isola della Tasmania che è veramente molto piccola e si trova a sud del continente australiano è un luogo davvero inospitale estremamente arido insomma non è proprio il posto dove vorreste che vi si fermasse la macchina l'attrazione turistica diciamo più famosa è il monte Uluru che apporta alla regione circa mezzo milione di turisti ogni anno la città più vicina ad Uluru pensate dista ben 5 ore e 40 minuti di macchina parliamo di distanze davvero incomprensibili per noi europei ma la nostra storia non inizia in Australia ma in Inghilterra dove troviamo Peter Falconio e Joanne Lease Peter era nato il 20 settembre del 1972 a Epworth un piccolo villaggio del West Yorkshire aveva una famiglia numerosa essendo il secondo di quattro fratelli era un ragazzo sempre allegro in classe era il tipo che faceva in continuazione battute e faceva ridere i compagni e pertanto aveva anche molti amici diciamo con facilità conosceva nuove persone studiava ingegneria civile all'università e per mantenersi svolgeva ben due lavori i sacrifici però lo ripagano quando dopo la laurea ottiene un lavoro come perito edile che gli consente anche di acquistare un piccolo cottage nella campagna inglese nel 1996 mentre era fuori con alcuni amici ad un nightclub incontra Joanne e da quel momento in poi i due saranno inseparabili Joanne era nata il 25 settembre del 1973 la famiglia viveva nella città di Huddersfield in Inghilterra Joanne trascorre un'infanzia molto serena nonostante i numerosi problemi economici e anche lei come Peter per mantenersi all'università svolgeva diversi lavori quando termina gli studi trova lavoro nell'agenzia di viaggi Thomas Cook e quando conosce Peter i due si innamorano perdutamente Peter era un ragazzo ambizioso così decide di prendere addirittura una seconda laurea all'università di Brighton per un po' i due vissero infatti una relazione a distanza ma poi Joanne otterrà il trasferimento dal West Yorkshire a Brighton Peter e Joanne erano una coppia giovane bella, ambiziosa gli amavano viaggiare passione che certamente era alimentata anche dal lavoro di Joanne appunto visto che lavorava in un'agenzia di viaggi insieme visitano la Giamaica, l'Italia, la Grecia ma volevano immergersi in un viaggio più lungo visitare posti lontani così nelle 1998 iniziano a pianificare il viaggio della vita viaggio che avrebbero intrapreso però solo nel 2000 con ben due anni di pianificazione alle spalle e la maggior parte del tempo di questo appunto viaggio lo avrebbero trascorso in Australia i genitori di entrambi però erano tutto fuorché contenti in quanto l'Australia in quel momento era stata protagonista di alcuni episodi in cui turisti erano rimasti vittime di folli omicidi come nella foresta della Billonglow State dove nei primi anni 90 5 dei 7 corpi rinvenuti appartenevano a turisti ad opera del serial killer Ivan Milat noti anche come gli omicidi dei backpackers sempre in Australia nel 1996 ben 35 persone erano state massacrate a Port Arthur ad opera di un uomo armato di pistola che aveva fatto fuoco sulla folla evento tra l'altro che segna anche un importante cambiamento a livello legislativo sul possesso di armi da fuoco nel paese e le tragedie non si fermano lì perché proprio nel 2000 pochi mesi dalla partenza di Peter e Joanne ben 15 turisti rimasero uccisi in un rogo provocato da un uomo che sosteneva di odiare i backpackers ed aveva infatti dato fuoco ad un ostello dove questa tipologia di turisti era solita alloggiare Peter e Joanne avevano pianificato di partire nell'estate del 2000 ma Peter ottenne un'offerta di lavoro per un progetto molto importante che portò la coppia a posticipare la loro partenza di qualche mese lasciando così il gelido inverno inglese per arrivare nella splendida estate australiana partirono il 15 novembre del 2000 diretti verso il Nepal per poi recarsi a Singapore Malesia Thailandia Cambogia e rinfine il 26 gennaio del 2001 arrivarono nella città di Sydney appunto in Australia il loro piano iniziale era quello di rimanere a Sydney per circa tre mesi avevano ottenuto un visto lavorativo quindi avrebbero cercato un lavoro per quel periodo e al tempo stesso usato Sydney come base per esplorare il paese con il visto a loro disposizione ed il tempo limitato non poterono certo ambire a lavori professionali come quelli che avevano in Inghilterra visto che il visto lavorativo aveva una validità semestrale così mentre Joanne accettò un lavoro in una libreria Peter ottenne invece un'occupazione facendo consegne e montaggio di mobili i due si fecero molti amici in quei mesi e comprarono addirittura una macchina per esplorare le zone limitrofe a Sydney amavano così tanto la loro vita in quella città che estessero il loro soggiorno dai tre fino ai cinque mesi alla fine dei quali si recarono a Melbourne poi successivamente Adelaide, Darwin, Brisbane il loro piano arrivati verso Brisbane sarebbe stato quello di esplorare il North Territory e il Monte Uluru per poi partire alla volta della Nuova Zelanda avevano solo un'ultima tappa da fare prima di lasciare il paese ed era appunto Uluru vendettero così come avevano pianificato la loro auto per comprare un vecchio van arancione sul quale avrebbero anche dormito avevano installato dei letti, delle tende rendendolo insomma il più possibile comodo confortevole e accogliante avevano installato anche un piccolo impianto a gas proprio sul tetto così l'ultima parte del loro viaggio inizia il 25 giugno del 2001 avrebbero percorso l'autostrada che andava da Darwin fino al sud dell'Australia per un totale di 2834 km e pensate che questa strada barato strada ha solamente 17 incroci è una strada dritta che taglia l'Australia nel mezzo passando per il deserto è talmente desolata che potresti guidare per giorni e giorni senza incrociare un'altra macchina la loro prima fermata era appunto Uluru avrebbero impiegato 17 ore per raggiungerla con diverse pause lungo il tragitto tra cui Cobber Piety un posto dove fa talmente caldo che ci sono periodi dell'anno in cui gli abitanti del luogo si rifugiano in caverne adibite a case caverne all'interno delle montagne mentre Joanne e Peter stavano percorrendo questa autostrada fermandosi in diversi luoghi mentre si trovavano a circa 1500 km da Ellie Springs nello stesso momento molto più a sud rispetto alla loro posizione troviamo anche troviamo tre turisti britannici che percorrevano la medesima autostrada in direzione sempre di Ellie Springs due ragazze ed un ragazzo le donne si trovavano nel sedile anteriore mentre il ragazzo era sdraiato su quello posteriore la ragazza alla guida nota dallo specchietto retrovisore un furgoncino autocarro cassonato bianco aperto e chiuso con un telo di colore verde inizialmente le ragazze erano anche contente di vedere la presenza di un altro essere umano su quell'autostrada mentre il ragazzo non aveva notato nulla in quanto sdraiato e non si notava nemmeno dall'esterno che ci fosse questo ragazzo l'autista di questo furgoncino inizia ad accelerare e si avvicina davvero tanto a quella macchina attaccandosi letteralmente al veicolo quasi rischiando di tamponarlo la ragazza alla guida accelera ma così fa anche questo furgoncino per poi spostarsi sulla corsia opposta affiancandosi all'auto come se volesse effettuare un sorpasso ma inizia a guidare alla loro stessa velocità immaginate vedere due auto su due corsie proseguire alla stessa identica velocità e quest'uomo alla guida si gira ed inizia a fissare le due donne dal suo finestrino poco dopo l'uomo accelera le sorpassa e le donne lo perdono di vista per una decina di minuti ma poco dopo vedono quello stesso furgoncino bianco parcheggiato sul ciglio della strada e quell'uomo inquietante fuori in piedi che fumava una sigaretta ed appena lo superano quell'uomo risale in macchina la mette in moto e fa esattamente la stessa cosa che aveva fatto prima le raggiunge e prima si attacca alla macchina e poi si affianca alla stessa proseguendo alla stessa velocità dal finestrino quell'uomo inizia a fare dei gesti strani con le mani come anche quello di una pistola alla testa cioè letteralmente fa questo gesto fino a quando il ragazzo che in tutto questo tempo era rimasto sdraiato si alza l'uomo alla guida vedendo che le donne non erano sole probabilmente desiste e accelera dileguandosi i tre turisti riporteranno lo strano episodio alla polizia solamente tre settimane dopo torniamo a questo punto a Peter e Joanne che sono ormai arrivati alla città di Cobber Pedy e lì Joanne invierà una cartolina la sua ultima cartolina a sua madre come usava a fare in ogni località successivamente proseguono il percorso per arrivare ad un accampamento che si trovava a circa 20 chilometri da Uluru lì poterono rifocillarsi con una doccia ed una cena sarebbero andati a dormire presto visto che la sveglia sarebbe stata all'alba il loro obiettivo sarebbe stato quello di arrivare in cima alla montagna al sorgere del sole e godersi il panorama nei giorni successivi esplorano altre zone intorno a Uluru e lì fanno amicizia con altri due backpackers canadesi Mark e Isabel con cui decidono di visitare Alice Springs il 14 luglio la coppia si trova nella località di Buglia dove Joanne riesce a parlare al telefono con sua madre raccontandole che quel giorno avrebbero assistito ad uno show di cammelli che pensate era un evento che avveniva una volta all'anno in quella località e quindi ovviamente non potevano perderselo quel giorno Joanne parla anche con la sua amica Amanda raccontandole che il tutto proseguiva per il meglio Amanda si trovava in Nuova Zelanda e lì Joanne l'avrebbe incontrata da lì a breve dopo questo show dei cammelli avrebbero guidato per circa sei ore fino a Devil's Marble ed avrebbero guidato a turni cioè le prime tre ore Joanne e le successive tre Peter sarebbe stato alla guida dopo circa tre ore decidono di fermarsi per darsi il cambio e anche per fare un po' di spesa al Roadhouse la ricevuta mostra che la transazione aveva avuto luogo alle 6 e 21 minuti del pomeriggio quindi alle 18 e 21 minuti intorno alle 19 e 30 la strada era completamente buia e anche priva di illuminazione e mentre Peter sta guidando un furgoncino dietro di lui inizia a lampeggiargli i fari abbagliano Peter al punto che non riusciva proprio a vedere la strada davanti a lui Joanne si gira per cercare di capire che cosa stesse succedendo ma avendo quel furgoncino i fari molto alti non riusciva a vedere nulla si percepiva solo che fosse veramente vicina al loro van era quasi attaccata fino a quando questa macchina si sposta sulla corsia vicina proseguendo alla stessa velocità di Peter l'uomo alla guida abbassa il finestrino ed inizia a fare dei gesti con le mani ed urlargli contro qualcosa i due non riescono bene a capire che cosa quell'uomo stesse dicendo l'unica cosa che comprendono è la parola scarico quell'uomo guidava un furgoncino a cassettone aperto coperto da un telo verde Peter comprende che quell'uomo lo stava avvisando che ci fosse un problema allo scarico del motore o almeno questo era quello che aveva intuito o la cappa del motore non so esattamente quale sia il termine più adatto così Peter decide di fermarsi nel mezzo di quell'autostrada buia e priva di illuminazione e così fa anche quel furgoncino dietro di lui che si accosta proprio dietro il van arancione di Peter e Joanne la ragazza quindi che si trova nella parte del conducente è ovviamente spaventata non è proprio convinta che quella sia la cosa giusta da fare Peter però decide di scendere e controllare che cosa quell'uomo volesse se ci fosse effettivamente un problema al motore Peter lascia la portiera dell'auto aperta e invita Joanne a rimanere al suo interno Joanne guarda la scena quindi l'interazione tra i due uomini dal finestrino retrovisore e sente quello sconosciuto direi che aveva notato delle scintille provenire dallo scarico del motore Joanne sempre dallo specchietto vede Peter abbassarsi per controllare ed in un primo momento si rilassa perché pensa che quell'uomo fosse solo un buon samaritano che voleva dargli una mano Peter ritorna da Joanne chiedendole di tenere acceso il motore mentre lui dava un'occhiata allo scarico e così fa Joanne passa dalla parte del guidatore accende il motore e Peter si incammina nuovamente dietro al van verso quello sconosciuto quando Joanne a un certo punto sente un botto un colpo forte che in quel momento non riesce ad identificare si gira per vedere cosa fosse accaduto e l'uomo alla guida di quel furgoncino bianco si era avvicinato velocemente al finestrino e le stava puntando una pistola alla testa le urla di spegnere immediatamente il motore ma Joanne comprensibilmente è in uno stato di shock quindi è paralizzata dalla paura così l'uomo sale lui stesso sul van la spinge sul sedile del passeggero e spegne lui il motore le urla di mettere le mani dietro la testa e poi la spinge lui stesso in basso le afferra i polsi e le lega con delle manette molto probabilmente realizzate da lui stesso realizzate da cavi elettrici la trascina fuori dal van e mentre la ragazza giace a terra cerca di legarle con gli stessi cavi elettrici anche le caviglie ma Joanne urla si dimena tira calci e alla fine l'uomo desiste avvolge un sacco nero intorno alla testa di Joanne ma dal quale la ragazza riusciva comunque a vedere quello che aveva intorno quindi non era ovviamente un tessuto troppo spesso l'uomo la prende di peso e la carica nella parte posteriore dell'auto sotto quel tettuccio di colore verde e lì Joanne riesce a vedere che nel sedile anteriore della macchina c'era un cane di grossa taglia che sembrava completamente dissociato rispetto a quello che stava accadendo Joanne riesce a vedere quell'uomo chiaramente aveva un aspetto trasandato era più vecchio di lei aveva una barba folta ed un volto lungo Joanne continua ad urlare il nome di Peter che lei tra l'altro non aveva più visto da quando era andato dietro al van per controllare il motore non sapeva se fosse vivo se fosse morto se fosse ferito e Joanne non smetteva di fare domande a questo sconosciuto su dove fosse Peter se magari volesse dei soldi se voleva violentarla Joanne le dice che se voleva del denaro poteva prendere tutto quello che avevano poteva prendere il van lei non l'avrebbe denunciato ovviamente la ragazza era disperata alla domanda se quell'uomo volesse o meno violentarla questo sconosciuto dice di no quell'uomo l'aveva sdraiata a pancia in sotto ma la ragazza nonostante avesse le mani legate dietro la schiena era riuscita a girarsi sentiva l'uomo camminare intorno alla macchina senza pronunciare una parola fino a quando Joanne non sente più alcun rumore non poteva sapere dove fosse quell'uomo in quel momento ma Joanne si accorge di un dettaglio che le salverà la vita il telo del rimorchio del cassettone non era chiuso alla perfezione c'era una piccola apertura da un lato in pochi secondi Joanne riesce ad uscire da quella stessa fessura e corre con tutte le forze che aveva in corpo verso il deserto allontanandosi dalla strada mentre scappa cade ben due volte ed entrambi si rialza per il terrore che quell'uomo fosse dietro di lei corre fino al punto che fisicamente non poteva più farlo si nasconde in un cespuglio piuttosto folto dietro il quale decide di nascondersi ed aspettare riesce nel mentre anche a togliersi quel sacco dalla testa Joanne sente da lontano i passi dell'aggressore e vede la sua torcia via via avvicinarsi a quel cespuglio dove si era nascosta le cammina a fianco ben tre volte senza notarla l'uomo torna così verso la macchina e Joanne prova un leggero sollievo ma in realtà quell'individuo non voleva andare via come la sperava infatti fa retromarcia e punta i fari dell'auto verso Joanne ma continuò a non vederla pensava che ormai Joanne si fosse allontanata chissà dove e così poco dopo se ne va Joanne rimane in quel cespuglio per moltissimo tempo un tempo che nemmeno lei sa quantificare terrorizzata cioè non oso nemmeno immaginare onestamente sente il rumore di una macchina avvicinarsi e teme che fosse quell'uomo tornato per prenderla ma fortunatamente era una famiglia del posto che normalmente non avrebbe mai percorso quell'autostrada a quell'ora tarda della notte ma a causa di una gomma bucata era stata costretta a partire in ritardo questa famiglia aveva visto il furgoncino bianco di quell'uomo guidare nella direzione opposta alla loro vi ricordo che in quella zona passavano pochissime auto e avevano visto anche il van arancione sul ciglio della strada come riporteranno in seguito mentre Joanne giasceva dietro quel cespuglio stava cercando con tutta se stessa di togliersi le manette e dopo ore riesce ad aggomitolarsi su se stessa piegando le ginocchia il più possibile e facendo passare le gambe dietro così da portare le braccia in avanti nonostante i polsi fossero sempre legati poteva comunque muovere le braccia più liberamente visto che non si trovavano dietro la schiena ma davanti diciamo in questo modo sembra che Joanne sia rimasta lì per circa cinque ore con una temperatura di undici gradi indossando solo una maglietta e dei pantaloncini la ragazza non solo era terrorizzata stava anche congelando dopo diverse ore circa cinque ore prende il coraggio di riavvicinarsi alla strada nascondendosi dietro dell'erba particolarmente alta che emergeva proprio dal lato della carreggiata e vede delle luci provenire da un autotreno chiaramente non poteva essere quell'uomo a guidarlo Joanne corre letteralmente al centro della strada cercando di atterrare l'attenzione dell'uomo alla guida urlando saltando muovendo le braccia seppure in modo limitato visto che i polsi erano ancora legati e quando il mezzo pesante stava per travolgerla in quanto l'autista non l'aveva notata lei si sposta da un lato per ovviamente non essere travolta ed inizia a correre per quanto possibile al suo fianco cioè al fianco dell'autotreno cosa molto difficile visto che il mezzo andava a una velocità di circa 90 km orari dopo circa un chilometro il guidatore nota qualcosa qualcuno nello specchietto retrovisore corrergli incontro quell'uomo si chiamava Vincent Miller così si ferma e vede quella giovane avvicinarsi piangendo istericamente cosa che sveglia anche il collega che riposava sul sedile del passeggero i due uomini ascoltano la storia della donna che trema ed è in evidente stato di shock e nel mentre l'aiutano anche a rimuovere i fili che le legavano ancora i polsi la preoccupazione principale di Joanne era trovare il suo fidanzato Peter così gli uomini iniziano a camminare per la strada a guardarsi intorno ma quando nel descrivere quello che le era successo Joanne menziona che il loro assalitore era armato quei due uomini decisero che era meglio chiamare la polizia nello stesso momento in cui Joanne viene soccorsa intorno all'1.30 del mattino colui che aveva aggredito la coppia entra all'interno della roadhouse che credo sia una sorta di catena di autogrill visto che l'ho trovato più volte nel corso della storia quello di Alice Springs dove viene ripreso dalle telecamere di sorveglianza quell'uomo acquista una tannica di benzina che sicuramente non gli serviva per rifornire il carburante del ghiaccio ed una tazza di caffè quello che poi diventerà un sospettato a tutti gli effetti lascia la stazione di servizio all'1.50 del mattino il veicolo sul quale si trovava era un furgoncino bianco per la precisione una toyota land cruiser della serie 75 e la parte posteriore era coperta da un telo verde esattamente come quello che poi descriverà Joanne a 1.30 del mattino i due uomini che le avevano soccorsa portano la ragazza ad un pub dell'hotel Barrow Creek a cui erano soliti andare quando ci trovavano nella zona la ragazza inizialmente non se la sente nemmeno discendere dall'autocarro non voleva nemmeno entrare per quanto era scossa Vincent così entra al suo posto e da lì contatteranno la polizia la polizia di Halley Springs che arriverà dopo circa tre ore per raccogliere la sua testimonianza la donna era chiaramente quando gli agenti la raggiungono in stato di shock repertono i suoi abiti come prova infatti Joanne dovrà indossare degli abiti di ricambio perché non aveva nulla con sé in quel momento Joanne è molto precisa nel descrivere quest'uomo dichiara che probabilmente aveva circa 45 anni un viso lungo degli occhi profondi ma spenti con delle guance cadenti portava dei baffi alla messicana ed era palido in volto indossava un cappello ma aveva dei capelli neri con qualche cenno di grigio lunghi fino alle spalle così a partire dalle 7 del mattino di quello stesso giorno nel North Territory la polizia annuncia l'inizio delle ricerche di Peter e dell'aggressore nel luogo in cui Peter e Joanne erano stati aggrediti trovano una pozza di sangue a qualche centinaia di metri dal loro van arancione proprio sul ciglio della strada che apparteneva a Peter partendo dal punto in cui era parcheggiato il van metà del team di investigatori ed agenti si incamminarono verso est e l'altra metà verso ovest ogni gruppo per due chilometri e le uniche impronte rinvenute sull'asfalto erano quelle di Joanne quindi non c'era traccia delle impronte di Peter e non c'era traccia delle impronte dell'aggressore quel giorno vennero istituiti anche 12 posti di blocco principalmente sulle intersezioni e gli incroci più importanti dello stato pensate che Joanne per i primi due giorni non ricevette alcun tipo di attenzione medica non venne supportata dall'organizzazione preposta al supporto delle vittime come è previsto in queste situazioni la polizia del North Territory era in realtà piuttosto dubbiosa sulla versione che Joanne aveva fornito pensando che forse Joanne non stesse dicendo tutta la verità a parte infatti quella traccia di sangue non c'erano altre prove fisiche su Peter o sul suo aggressore la sua storia sembrava inverosimile anche il fatto che una ragazza inglese piccola magrolina fosse riuscita a scappare con le mani dietro la schiena un sacco nero in testa nel mezzo del deserto in piena notte da un uomo armato di pistola che aveva aggredito il suo fidanzato sembrava un po' assurdo agli investigatori che fosse realmente accaduto in media ci si buttarono a capofitto nella storia andando ad analizzare ogni singolo aspetto di questo racconto evidenziando gli aspetti più surreali e poco chiari tengo a precisare che Joanne non aveva mai richiesto di essere rappresentata da un avvocato e non era nemmeno stata istruita dalla polizia su cosa fosse il caso di dire o meno ai giornalisti ed era comunque una donna che aveva subito un trauma profondo sia all'inizio Joanne aveva rilasciato un'intervista ad una televisione dopo poco la donna si nega completamente ai reporter e questo non fa che aumentare i dubbi sulla veridicità delle sue affermazioni la ragione principale per cui i media iniziarono a detestare Joanne era perché nell'unica conferenza stampa a cui la donna aveva partecipato aveva indossato una t-shirt con scritto Cheeky Monkey sicuramente una scelta inappropriata sicuramente perché appunto Cheeky Monkey significa scimmia impunita scimmietta impunita ma Joanne si era giustificata sostenendo che la polizia avesse preso tutti i suoi vestiti quindi aveva preso degli abiti che le erano stati prestati e onestamente con tutto quello che le stava accadendo in quel momento non aveva proprio la testa per pensare a cosa fosse scritto sulla t-shirt l'atteggiamento schivo di Joanne e riservato la fece paragonare dalla stampa australiana a Lindy Chamberlain la figlia di Lindy Azaria era stata uccisa da un dingo nella zona di Uluru crimini per il quale fu inizialmente ingiustamente accusata di omicidio cioè di aver ucciso sua figlia di nemmeno un anno condannata e poi fortunatamente rilasciata ma l'agonia mediatica che subirono le due donne Lindy e Joanne fu la medesima semplicemente perché non erano molto socievoli tra virgolette con la stampa inoltre vi ricordate che l'uomo che combaciava la descrizione di Joanne si era rifornito di combustibile alla stazione di servizio di Alice Spring proprio quella notte la notte dell'aggressione ed era stato ripreso dalle telecamere ecco quando le immagini dell'uomo ricavate da quel filmato vengono mostrate a Joanne la ragazza in un primo momento nega che quello fosse l'uomo che l'aveva aggredita per poi ritrattare dopo qualche settimana sostenendo che con assoluta certezza fosse proprio lui il suo aggressore questa però ritrattazione aveva fatto dubitare ancora di più la sua versione agli occhi degli inquirenti secondo Joanne lei aveva la sensazione che quello fosse un crimine di impulso lei e Peter erano nel posto sbagliato al momento sbagliato cercare qualcuno nel nord territorio era come cercare un ago in un pagliaio l'identikit realizzato da Joanne venne rilasciato dalla polizia ai media e a giornali il 3 di agosto Joanne rimase ad Alice Springs per aiutare con le indagini fino al suo ritorno in Inghilterra e pensate la sera prima del suo volo per lasciare l'Australia la polizia di Alice Springs alle 8 di sera la chiama in centrale dicendo di dover parlare con lei urgentemente al suo arrivo nella sala interrogatori le chiedono di confessare sostenendo che loro sapevano benissimo che lei era la vera responsabile della morte di Peter e che doveva confessare per dare conforto alla sua famiglia alla famiglia appunto di Peter Falconio Joanne ovviamente non può confessare qualcosa che non aveva fatto però vediamo come gli agenti non l'avevano proprio creduta avevano fortemente dubitato della sua versione al punto tale di credere che fosse stata lei ad architettare il tutto ma la polizia aveva fino a quel momento completamente tralasciato ed ignorato un'informazione il fatto che la maglietta di Joanne fosse sfilacciata e presentava proprio in quel punto delle macchie di sangue scure il profilo di DNA ricavato da quelle macchie di sangue non apparteneva né a Joanne né a Peter e nemmeno ai due uomini che l'avevano soccorsa doveva essere del suo aggressore quel profilo genetico non corrispondeva ad alcun profilo genetico presente nel database australiano quando l'identikit dell'uomo venne divulgato dalle televisioni ottennero numerosissime chiamate al col centre della polizia diverse persone infatti avevano identificato a loro volta persone diverse l'aspetto di quell'uomo dell'identikit ed il suo look era piuttosto comune nell'outback australiano ottennero infatti 36 diverse segnalazioni da parte di persone che ritenevano che quella persona fosse qualcuno che conoscevano così gli investigatori si concentrarono su un altro aspetto dell'indagine il veicolo catturato dalle telecamere di sorveglianza quella notte quello infatti era un modello particolare quella serie 75 prodotto esclusivamente tra il novembre del 1991 ed il 99 e non ne erano stati venduti molti quindi si concentrarono su coloro che avevano acquistato quel furgoncino in quel periodo di tempo e uno degli uomini su questa lista era Bradley Murdoch e Bradley Murdoch era anche uno di quei 36 uomini che erano stati identificati come somiglianti all'uomo dell'identikit da una chiamata fatta al centralino della polizia così notando che Bradley Murdoch non solo corrispondeva all'identikit ma aveva anche quel furgoncino decisero di andare a parlare direttamente con l'uomo ma non so per quale motivo decisero di non prelevare un campione del suo DNA sostenendo che non rispecchiasse l'identikit di Joanne quindi si rifiutarono anche di prelevare un campione della sua saliva nel novembre del 2001 le indagini passarono nelle mani di Colin Woods che cambia completamente il team investigativo il punto di partenza sarebbe stato quello di stilare una lista dei sospettati che potenzialmente potevano trovarsi in quella zona con quel veicolo Colin pensate si recherà addirittura in Inghilterra per parlare nuovamente con Joanne che nel frattempo aveva completamente perso fiducia negli investigatori che l'avevano addirittura ritenuta responsabile della sparizione di Peter la svolta nell'indagine avviene nel maggio del 2002 quando la polizia afferma James Happy un noto trafficante di stupefacenti a seguito di una soffiata anonima ed infatti lo trovano che trasportava un quantitativo di 4 kg di droga per un reato di questo tipo avrebbe certamente trascorso diversi anni dietro le sbarre così decide di collaborare con la polizia sul caso della sparizione di Peter Falconio l'uomo aveva qualcuno che sospettava potesse essere responsabile di quella sparizione probabilmente anche del suo omicidio Bradley Mardock quindi vediamo che ritorna nella nostra storia James conosceva molto bene Bradley in quanto avevano gestito insieme il trasporto del commercio di stupacenti per diversi anni pertanto era stato in stretto contatto con Bradley e in cambio della sua collaborazione sul caso James avrebbe beneficiato di un considerevole sconto di pena dichiara ad esempio di averlo visto realizzare delle manette con dei fili elettrici esattamente identici a quelli utilizzati per legare Joanne ed inoltre aveva detto al suo amico che se mai avesse dovuto liberarsi di un corpo lo avrebbe fatto gettandone i resti in una discarica cioè conversazioni normalissime tra due amici il weekend della sparizione di Peter Bradley Mardock si stava occupando proprio del trasporto di un carico di droga e quando era arrivato nella città di Brom aveva raccontato al suo partner James perché a quel tempo ancora collaboravano diciamo collaboravano erano comunque partner aveva raccontato di aver avuto degli imprevisti durante il viaggio ed il giorno immediatamente dopo Mardock aveva cambiato il suo veicolo ed il suo aspetto rasandosi i baffi e tagliandosi i capelli James racconta anche che Bradley aveva tagliato i rapporti con suo fratello Gary qualche tempo prima così la polizia chiede proprio a Gary il fratello di Bradley di fornire un campione del proprio DNA per compararlo con quello rinvenuto sulla maglietta di Joanne e l'esame del DNA confermerà che quel campione era potenzialmente compatibile con quello di Bradley Mardock infatti chi aveva fornito il DNA per l'analisi in quel caso suo fratello biologico era certamente strettamente correlato dal punto di vista genetico con il campione ignoto in possesso della polizia nonostante Gary e Bradley non stessero in buoni rapporti sarà lo stesso Gary ad avvisare Bradley che la polizia lo stava cercando e l'uomo si dilegua nel North Territory un luogo vasto ed ostile che però per lui era familiare nel novembre del 2002 tuttavia Bradley viene finalmente arrestato ma in realtà non in relazione al caso Falconio ma perché aveva sequestrato e violato due donne madre e figlia crimine commesso nel maggio del 2002 proprio poche settimane dopo la sua fuga ed era ricercato dalla polizia anche per quei reati gli investigatori si recono in Inghilterra per avere una conferma di Joanne che chi l'avesse aggredita fosse effettivamente Mardock il processo in cui le mostrano 12 foto segnaletiche viene filmato e l'esaminatore prima di procedere istruisce Joanne affermando quanto segue la persona coinvolta nell'incidente del 14 luglio del 2001 potrebbe o non potrebbe essere tra le foto qui presenti guardale con attenzione prenditi tutto il tempo di cui hai bisogno indicami poi quale foto hai selezionato indicandola in modo distinto con la mano Joanne indica una di queste 12 foto ed esclama credo sia il numero 10 ed il numero 10 era proprio la foto di Bradley Mardock inoltre alcuni reperti sulla scena tra cui le manette con le quali erano stati legati i polsi di Joanne vengono inviate sempre nel 2002 ad un laboratorio inglese del West Yorkshire che utilizzava una tecnica di estrazione del DNA all'avanguardia dove riescono ad estrapolare un ulteriore DNA maschile che era lo stesso DNA trovato sulla maglietta di Joanne ed era quindi il DNA di Bradley Mardock infatti ovviamente quando Bradley viene arrestato viene effettuato l'esame del DNA direttamente con il suo campione che corrispondeva sia al sangue trovato sulla maglietta della ragazza sia a del DNA trovato sul cavo elettrico che era stato utilizzato per legarle ai polsi al processo nel 2005 Bradley Mardock si dichiara non colpevole e la difesa pensate giustifica le tracce del suo DNA trovate sulla maglietta sostenendo che questo DNA si sarebbe trasferito su questa t-shirt dalla quando nei giorni precedenti all'aggressione Bradley si sarebbe recato al ristorante Red Roaster dove avrebbe perso del sangue e secondo questa bizzarra ed assurda teoria Joanne si sarebbe seduta nel medesimo tavolo il giorno seguente ed il DNA dell'uomo sarebbe finito così accidentalmente sulla sua maglietta cioè mi sembra veramente una teoria folle ed aggiunge inoltre che qualcuno aveva certamente voluto incastrare il suo cliente cioè Bradley Mordock il corpo di Peter purtroppo non venne mai ritrovato e si ritiene che Bradley abbia nascosto i suoi resti nel vasto outback australiano tra Broome e Alice Springs territorio che lui conosceva molto bene e secondo la mia opinione la tannica di benzina che aveva comprato quella notte la notte dell'aggressione era servita proprio per bruciare il corpo di Peter Bradley venne ritenuto colpevole dell'omicidio e condannato all'ergastolo con la possibilità di ottenere la condizionale dopo 28 anni e ovviamente attualmente si trova ancora in prigione e ad oggi si rifiuta ancora di confessare che cosa abbia fatto dei resti del povero Peter se ricordate all'inizio della storia vi ho accennato al fatto che Wood Creek questo film del 2005 fosse basato anche su quanto accaduto a Peter Falconio e pensate il film che ovviamente era stato girato prima del 2005 era uscito in Australia nello stesso periodo in cui si era tenuto il processo di Bradley motivo per cui nel nord territory cioè dove effettivamente il processo avrebbe avuto luogo l'uscita di questo film slittò di ben due anni infatti in quella parte dell'Australia uscì solo nel 2007 e non so se l'avete mai visto io l'ho trovato veramente spaventoso soprattutto perché so che anche se non è una storia vera la storia di per sé è tratto da fatti reali da diversi in realtà e voi pensate che il corpo di Peter verrà mai ritrovato che cosa pensate che ne abbia fatto quell'uomo sono curiosa insomma di sentire le vostre opinioni ebbene io vi ringrazio noi ci vediamo nel prossimo video io vi auguro uno splendido weekend ciao